Per me ovviamente la pace non è soltanto la non belligeranza, l'assenza di guerra, purtroppo siamo ancora a questo, in un mondo che peraltro rispetto ai secoli precedenti si è pacificato, quantomeno perché ci sono meno guerre, però ci sono stati degli esempi e noi nell'Occidente siamo uno di quelli che mostrano che la pace è proprio un'alternativa radicale, è uno stato mentale condiviso da milioni di persone, dove possono essere coltivate delle aspirazioni e delle idee che in presenza di guerra semplicemente non possono sopravvivere, questo concetto di pace non è ancora del tutto diffuso. No, purtroppo credo che noi non abbiamo una coscienza precisa della quantità di guerre anche sanguinose che ci circondano, anche se a questo punto noi dovremmo sentirci circondati dovunque si trovi questa guerra, perché in un mondo globale e globalizzato certe distanze, quantomeno quelle emotive, si sono completamente cancellate. Adesso si percepiscono perché ci vuole niente, per vederle in diretta e quindi è un po' grave che noi non abbiamo questa percezione, cioè di quanto in realtà ancora sotto minaccia sia questo stato di pace nel quale noi viviamo, non dimentichiamolo, è dal 1945 che in Italia viviamo in stato di pace, quindi è un bene preziosissimo che qualunque conflitto che ci circondi o che ci riguardi in qualche modo ce lo minaccia. Il sistema informativo italiano è notoriamente un sistema anomalo e come tale non direi che sia quello più indicato per andarci a cercare la corretta informazione, soprattutto per quanto riguarda la politica internazionale, però è anche vero che ormai con le tecnologie digitali, con il satellite uno si può anche vedere quanto gli pare la CNN, Sky News o tutte le televisioni non italiane che invece hanno un tipo di atteggiamento e di approccio nei confronti dell'informazione internazionale più ricchi che non in Italia. Per dare un luogo ai giovani di questa città, di questa regione dove con il pretesto di fare radio, è una radio online, una radio diciamo no profit, quindi senza pubblicità e quindi perfetta per fare un'esperienza non professionale, quindi ricca di passione per i giovanissimi, il fatto che sia denominato in inglese, che è la lingua della globalizzazione, significa che si pone come obiettivo di essere un movimento transnazionale, si diceva una volta, globale si dice adesso. Movimentare parti sempre maggiori della società civile, indipendentemente dall'influenza dei singoli che aderiscono e tenere vivo questo concetto che sembrerebbe superato, la pace, proprio perché sono in Italia per esempio così tanti anni che la viviamo, tenerlo vivo invece significa per esempio scongiurare il pericolo che poi un giorno ci si sia dimenticati di che valore è. Come tutte le cose che hanno una portata a livello umanitario, ci si rivolge sempre, io ho militato a fianco di Amnesty International e tuttora milito, nelle campagne contro la pena di morte, quindi ho un'esperienza di questo tipo, ci si rivolge sempre a chi ti può ascoltare, quindi non ci si rivolge alla base per esempio che negli Stati Uniti, la base democratica che negli Stati Uniti appoggia e legittima democraticamente l'uso della pena di morte, ma ai giuristi, ai futuri probabilmente membri della Corte Suprema degli Stati Uniti, a coloro che dividono con i loro colleghi europei convegni di grande livello e che sanno benissimo che in Europa la pena di morte è quasi già diventata, grazie a Dio, un tabù e quindi credo che insomma siano questi gli interlocutori poi alla fine, siano gli interlocutori più alti, perché c'è poco da fare, se una guerra non viene dichiarata da un monarca o da un capo non si combatte. Se un numero di persone, mi auguro ampio, si sente riguardato, toccato da questo movimento, ma sono persone comuni, dice cosa posso fare io all'interno? Puoi vigilare, puoi vigilare che questa specie di lobby in positivo non tradisca o non si distragga dalla ragione che ha suscitato il tuo interesse. Questo la gente normale lo può fare, però purtroppo è un impegno.